Il primo ministro libanese Najib Mikati ha avuto colloqui al palazzo magistrale con il gran cancelliere del sovrano ordine di Malta Riccardo Paternò di Montecupo. Dopo l'incontro Mikati è stato ricevuto dal luogotenente di gran maestro Fra John Dunlap. Nei colloqui, ai quali ha preso parte il grande ospedaliere Fra Alessandro De Franciscis, sono stati ribaditi gli ottimi rapporti suggerlati da 70 anni di relazioni diplomatiche. L'ambasciata del sovrano ordine di Malta a Beirut venne infatti aperta nel 1953 mentre l'associazione ha avviato i suoi programmi di assistenza medica e sociale nel 1981. Da allora l'ordine di Malta ha svolto e continua a svolgere un ruolo chiave nel paese dei cedri, attraversato da una guerra civile durata 15 anni e da gravi crisi sociali ed economiche. L'ordine di Malta svolge un lavoro eccellente nel mio paese, ha affermato Mikati sottolineando la difficilissima crisi che sta attraversando il Libano e come le priorità del governo siano l'educazione e la salute. Nei colloqui è stata affrontata anche la questione dei corridoi umanitari verso la Siria, che sono ancora più indispensabili dopo il terremoto del febbraio scorso. Il gran cancelliere ha ribadito che il Libano è nel cuore dell'ordine di Malta. Siamo pronti, ha detto, e disponibili a fare ogni possibile sforzo per aumentare i nostri programmi medici e sociali. Una riunione è prevista a Beirut nei prossimi giorni tra Mikati e il presidente dell'associazione libanese Marwan Senawi per fare il punto della situazione e coordinare gli sforzi. Da 2019 il Libano sta vivendo una nuova catastrofe umanitaria, aggravata ulteriormente dalla crisi pandemica e dall'esplosione al porto di Beirut dell'agosto 2020. La crisi economica ha fortemente indebolito il sistema sanitario. Farmaci e medicinali di base scarseggiano presso i distributori, gli ospedali e le farmacie. L'ordine di Malta in Libano è in prima linea nel fornire assistenza medica e sociale alle persone più vulnerabili attraverso gli 11 centri medico-sociali e i progetti presenti su tutto il territorio, attive 7 unità cliniche mobile che raggiungono le zone più remote del paese. L'associazione libanese dell'ordine organizza inoltre campagne di prevenzione e sensibilizzazione contro tumori, malattie cardiache e gestisce programmi per assistere le donne in gravidanza. Di recente, l'associazione ha inaugurato un nuovo centro medico a Beirut in grado di assistere fino a 500 pazienti al giorno. Di grande valore anche i progetti in ambito sociale sviluppati in stretta collaborazione con altre confessioni religiose presenti nel paese come con l'istituzione sunnita Dar el Fatwa, la fondazione El Sadr, una delle ONG sciite più influenti, e con la fondazione Sheik Abu Hassan Aref Alawi, considerata l'istituzione principale più rispettata all'interno della comunità drusa.